Il comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli nel corso di due distinte operazioni ha sottoposto al sequestro tra Ottaviano e Tezzinio oltre 220 tonnellate di pellet e un alto lavaggio abusivo. In particolare la compagnia di Ottaviano nel corso di un primo intervento ha individuato in pieno centro un immobile di 600 metri quadri sequestrando oltre 13.000 sacchi di pellet pronti per essere messi in commercio. Denunciato il titolare dell'attività commerciale è risultato sprovvisto di autorizzazione di conformità edilizia urbanistica oltre che di certificazione antincendio tenuto conto che il centro logistico era destinato allo stoccaggio di materiale infiammabile. È stata riscontrata l'inidoneità dei locali a conservare un simile quantitativo di pellet con conseguente situazioni di potenziale pericolo per l'intero circondario. Il deposito abusivo si trova infatti in una zona densamente popolata a ridosso di un'arteria principale della cittadina mesuviana con evidenti pericoli per l'incolumità degli abitanti e dei passanti. Nel corso del secondo intervento ad insospettire le fiamme gialle è stato invece un andirivieni di auto e persone presso un edificio a Terzigno. Qui la stessa compagnia ha scoperto un'attività di lavaggio auto abusiva priva di qualsiasi autorizzazione che sversava le acque reflui all'interno di un pozzetto scollegato dalla rete fognaria. Al momento dell'accesso i finanziari erano invenuto molte auto già lavate o pronte per essere sottoposte al lavaggio. Il gestore è stato denunciato per violazione alla normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e il lecito smaltimento di rifiuti mentre rinterare l'immobile utilizzato di circa 200 metri quadri sono stati sequestrati unitamente alle attrezzature utilizzate e ai rifiuti prodotti.